Ho provato a vendere magliette personalizzate per una settimana, ma quanto avrò guadagnato? Sicuramente negli scorsi video ti sarà capitato di vedermi indossare questa maglietta. O meglio ancora, ti sarà capitato di vedere una di queste pubblicità su Instagram o su Facebook. Ebbene sì, c'ero io dietro tutto questo. Ma partiamo un attimo dalla base, ovvero perché ho provato a vendere queste magliette. Esiste un business che andava di moda qualche anno fa, chiamato Print On Demand, che praticamente funziona in questo modo. Tu vuoi vendere una tua maglietta, ma non vuoi andare dall'azienda produttrice del tuo paese. E non hai neanche i soldi per acquistare uno stock di 50-100 magliette. Ed è qui che entra in gioco il Print On Demand. Perché esistono delle aziende, in questo caso io ho utilizzato Spring, che ti permettono di non dover fare magazzino ma un cliente avrà acquistato direttamente sul tuo sito. Quindi non devi neanche preoccuparti di perdere soldi, perché se nessuno compra, tu non hai speso nulla e quindi sei in pari. Detto ciò, che cosa sono andato a fare io? Ah, prima di continuare iscriviti, lascia un like e mi raccomando attiva la campanellina. Grazie. Prima di tutto ho cercato un sito web con il quale fare questo Print On Demand. E dopo averne trovati e testati alcuni, ho scelto quello che secondo me era il migliore, ovvero Spring. A questo punto ho creato la grafica che avrei voluto inserire nella maglietta e l'ho creata grazie a Canva e l'ho aggiunto sulla maglietta. Fortunatamente non mi sono dovuto occupare della creazione del sito, perché Spring ti dà direttamente uno scheletro preimpostato, già pronto per far acquistare i tuoi clienti. Personalmente ho anche acquistato il dominio del sito, quindi il suo nome, anche se comunque non era necessario. A questo punto l'unica cosa da fare è trovare i clienti, giusto? Ecco, qui forse c'è stato qualche problema. Ho creato una grafica da pubblicizzare sia su Facebook che su Instagram grazie a Canva. Una volta ultimata ho creato un profilo Instagram, ho messo il post ed ho avviato un'inserzione. Come obiettivo ho messo quello di ricevere più visite al sito web. E come link ne ho inserito uno che mi permetteva effettivamente di tracciare tutti i click che venivano fatti sul sito, per vedere se corrispondevano ai dati che mi forniva Instagram e Facebook. Come audience ne ho messa una giovanile, quindi dai 18 ai 30 anni. E come budget giornaliero ho messo 5 euro al giorno per 7 giorni. Ma quindi, alla fine, quanto ho guadagnato? Considerando che con 35 euro alla fine della settimana abbiamo raggiunto più di 17.000 persone ed abbiamo avuto ben più di 100 click sul sito web, abbiamo venduto la bellezza di una maglietta. Beh, sinceramente mi sarei aspettato un po' di più, ma probabilmente la promozione non è stata così efficace. A questo punto, se anche tu vuoi una maglietta Moneymakers e vuoi supportare il canale, ti basta andare nel link in descrizione o nello shop che ti viene dato direttamente su YouTube ed acquistarne una. A presto!